L'Occidente guidato dall'America ci considera criminali! È giunto il momento di ponirlo per tanta arroganza! Se l'11 settembre è stato la madre di tutti gli attentati, noi organizzeremo la madre della madre di tutti gli attentati! Sì! La nonna di tutti gli attentati! Molto bene, tenente! L'obiettivo si trova in una stanza al primo piano! Armare il Golia! Signor sì, signore! Che diavolo sta succedendo? Ma che roba è? Ci siamo impossessati di un satellite e lo abbiamo puntato sullo stadio! Non si distengono neanche i giocatori! Va meglio! Francesco, sbagliati! Inizia! Roma-Est, però, pensavo peggio! Pensavo... Allora, ci vogliamo dare la vostra! Alessandro Santini! Che t'ho fatto io? Mi dovete desiderare! Tu mi vedi? Perché non dovrei? Fa' attenzione! Con i vantami non si scherzano! Ehi, giovanotto! Che ne dici di divertirci un po'? Buonanotte, mammina! Ho come l'impressione di aver dimenticato qualcosa! Ah! Scannazione! Dove diavolo è la squadra di Roma? È bloccata nel traffico, signore! Non è possibile, cazzo! Questa città è un inferno, signore! E quando arriverà il giorno del giudizio? Li precipiterà tutti in un lago di pece bollette! Dove esci, patiranno in eterno! Siete autorizzati all'uso della forza! Fermate quei bastardi ad ogni costo! Li voglio a Guantanamo o in una barra! Per fortuna che siamo i buoni! Penso se fossimo stati cattivi! O tuoi amici, Ugo! Solo tu puoi aiutarli ormai! Fermo il futuro, uveci amici, fermalo! Fuoco! Fermo il futuro, uveci amici!